ragazze ragazzi rieccoci qua su ades allora continuiamo a proseguire nella storia anche se siamo abbiamo fatto dei buoni passi avanti poiché con persephone in teoria siamo a posto adesso dovrebbe a un certo punto dirci il piano che ha in mente che ha ideato e dovremmo poi forse eseguirlo non so vederlo non saprei perché come ho detto io la guida per sbloccare l'epigolo l'ho vista ma apposta non ho voluto approfondire troppo perché comunque vorrei scoprirlo da me cosa si vedrà alla fine ok quindi con cebero abbiamo sbloccato il suo cuore quindi mancano due cuore poi anche lui al massimo qua sono un po' bloccati ah orfeo non è ah ok orfeo era sbloccato andava portato su va bene eh ma gli dei mancano i soliti cioè manca poseidone manca zeus artemide ares dioniso e basta praticamente uno di questi posso a uno di questi posso anche rinunciare eh per esempio in teoria poseidone dovrebbe dimmi qualcosa quando ho un pesce nell'inventario ma finora non ho letto nulla al riguardo eh artemide deve finire le sue linee di dialogo su callis e ne abbiamo viste forse tre non so se sono cinque quattro o cinque vabbè ares in teoria una volta che ho anche fatto la sua missione dei diecimila nemici cioè dirgli che abbiamo ucciso diecimila nemici doveva sbloccarsi e finora non si è sbloccato dioniso invece devo donare a sei personaggi l'ambrosia e non so se ce l'abbiamo fatta adesso forse che si è aggiunto adesso persephone e cerbero dovremmo parlargli per vedere eh quindi forse il primo è dioniso che andrà a sbloccarsi non lo so abbiamo sbloccato escalibur praticamente eh ce l'ha rivelata nix e ora andiamo andiamo anche se con la spada io non avevo mai completato praticamente nulla guarda con la spada metto giusto per sicurezza ecco uno ah si perché volendo posso stare anche con calore zero però così no stiamo con calore uno va calore uno e va bene così mi becco tutte le ricompense va bene ciao 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 and then let's get to work mortals believe that there is no return from here they are correct and we all must do our part to keep it that way we have a certain reputation to uphold time to uphold it then ok ah si non ci ha parlato di kallist vabbè allora io andrei di fendente mortale non so perchè appunto si dai fendente mortale diciamo più male eh anche se il terzo attacco è un po' più lento abbiamo visto ma vabbè vediamo poi poi abbiamo questo però non saprei cosa cosa fa comunque si no fendente mortale mi sa che va bene ok mi sembra bella forte eh surprise distrutto ok vediamo le modifiche allora il tuo attacco ripristina 2 di vita per colpo ma almeno 60 per cento di vita eh insomma l'aura della sacra ex skybore è del 45 per cento più ampia e rallenta i nemici 10 per cento ah ecco repertorio alternativo attacco più potente il tuo attacco speciale genera un'aura difensiva che rallenta i nemici ah ecco cosa fa quella roba il tuo attacco scattante colpisce due volte e infligge più 20 per cento danni ma ehm io prenderei doppio filo perchè comunque con la spada mi viene da scattare e colpire non ha malus quindi direi ottimo dai prendiamo questo ecco non mi sembra colpisca due volte però oh magari un attacco doppio non... non saprei che non ok 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 non mi sembra male non mi sembra male però vediamo la testiamo forse è meglio della spada base forse vabbè certamente con i nemici rallentati eh questo terzo attacco forse non non è poi così lento allora Demetra ma si andiamo da Demetra vediamo un attimo vorrei dicesse qualcosa ok ok la mamma è una cura young Zagreus ti dimentico che sei immun sei 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 questo forse è un altro dialogo su Persephone vabbè abbiamo fatto bene a parlarle allora ah ecco i tuoi doni divengono comuni e acquistano rarità ogni tre incontri vai ok andiamo si andiamo da Dioniso che che ok ok non credo però adesso vediamo potrei prendere questo si non si è sbloccato niente una fontana cambiamo ecco una chiave gemma viola ah beh senti prendiamo sta chiave eh cavolo ok non sembra affatto male sta spalla proprio sto scoprendo cose no andiamo a prendere un po' di soldi forse però mi conveniva prendere diciamo l'aumento del raggio d'azione di sta mossa ok vabbè prossima volta ok qua resistiamo ok cavolo sono proprio rallentati bene si datemi un po' di soldini ok 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 Grazie a tutti. Ok. Ah, c'è il caos. Eh già. Beh, di vita ne abbiamo, quindi andare dal caos. E con questa spada, se poi la potenziamo, si ottiene missa tanta vita. Inferiore all'infinito, sì. Vabbè. Ah, fendente e fragellante. In tre incontri subisci cinque di danni, con effetti un attacco speciale, però poi il mio attacco è più potente del 61%. Al guattro in due ente però mi sembra ancora meglio, così. Per quattro incontri i tuoi momenti sono più lenti del 51%, della metà. Però a seguire inflige il 122% dei danni quando colpisce un nemico alle spalle, più del doppio. Secondo me conviene questo. Eh sì. Andiamo da Zeus. Facciamo scattotonate. Oh, non ci si è sbloccato. Quindi abbiamo sentito tutti i dialoghi su Zeus. Molto bene. Molto bene. Mamma mia, meno male. E aspetta che siamo rallentati. Useremo lo scatto. E abbiamo un bel malus. No, aiuto, non mi vedevo più. Allora, speriamo di sopravvivere. Vabbè. Oh, l'ho presa. Toglie tantissimo. Questo è finito. Molto bene. Forse è ancora più del guanto. Ah, uguale, magari, però è più veloce. E soprattutto colpisce da un po' più di star. Ok, io prendo la ghianda. No, direi che non... No, assolutamente no. E... Prendo questo. Ok. Ancora tre incontri così. Ok, cambiamo. Cambiamo. Eh, ce lo prendiamo, dai. Oh, allora. Oh. Quindi al prossimo giro Zeus... A Zeus gli possiamo andare l'Ambrosia. Molto bene, molto bene. Ok. Ok. Aspetta, ok. Eh, io vado da Zeus, però tanto lo so già che... Non posso dare nulla. Aspetta. Ok. Aspetta. No. Allora. E lì non ci arrivo, però. Aia. Ok. Ah, no. Ah, bene. Bene, bene, bene. Ah. King of the Olympians, Lord Zeus. Forgive this offer of Ambrosia, for I know you have no limit of it there. But here it is the finest gift that can be given. And even still it isn't anything compared to all you've done for me. Thank you, uncle. Now, now, nephew, you are the most generous indeed in showing all this deference to me. But we must keep some distance, shouldn't we? Unless all the others here, why? They would be most jealous if they caught me playing favorites. Even though you are my favorite. Presently at least. Attualmente, eh. Fatti. Ok. Abbiamo... Ok. Forgato il legame con Zeus. Scossa di ritorno, direi. Eh, andiamo da Caronte, va. Eh. Easy does it. Eh, direi... Aumentiamo la vita, va. Aspetta che tolgo ste bombe. Ok. 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 Ok mamma mia Oh no Si si ok cammino Bene bene Allora Gli effetti di sbornia rendono I nemici più lenti Si prendo questo Ancora lui Vabbè no dai Non l'ho alterato Pazienza Adesso quando colpisco alle spalle Faccio un botto di danno Non c'è Ok Mi parla ancora Mi parla perchè c'è il dono duale E infatti I nemici affetti da sbornia sono più suscettibili ai danni critici Va bene Ok E prendiamo la chiave dai Madonna Basta con sta mossa Attenzione Ok Potenziamento caro Andiamo a prenderci un potenziamento Dai Siamo arrivati all'idra Potenziamo il fendente Non si può potenziare il fendente Allora Tortore dei sensi Direi Ok 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 Attenzione Non ho più lo scudo Ok 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 Come sempre Ok 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 avrei preferito il martello però ok aia facciamo scossa di ritorno si può pescare aia 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 ok ho messo poco ah c'è il caos ma siamo già scesi nel caos quindi c'è anche il forziere andiamo da caronte no dunque si ricarichiamoci un po' la vita e prendiamo un dono di ermes facciamo arabesco rapido dai andiamo andiamo potenziamento secondo me se andavo da zeus c'era il minotauro andiamo mortale al saperlo non prendevo le cure vabbè andiamo un po' a aumentare un po' la vita andiamo 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 spiagare un po' la andiamo i proiettili vengono rallentati ma pensate Non sono i nemici Questo studio del cavolo, guarda Vai, dammi un po' di vita Aumentiamo l'attacco In questo caso Lo vedo E che pensi che tu? Che cosa succede con la guerra che hai detto, signor? Se non mi piace mi chiedere Allora E prendo stracciati di ciclo Direi di là no Andiamo di qua C'è un po' di più C'è un po' di più C'è un po' di più No, ho la lui Ho vinto io di brutto, direi. Ah, posso conversare? Non se ne va? Allora, senti, mi è tutto eccezionale e ti offro... Posso, ecco. Ecco, metterlo da parte, dai. Ma manca non facendo nulla. Che vale. Noi non hai mai mai fatto nulla. Ma per me, ho capito che hai intenzione. Mi ero così attraverso fare qualcosa per Orpheus, quando ho incontro a Eurydice, non ho mai chiesto se era bene. Poi, le cose si vanno bene per loro. Ma è stato fortunato. Fondamenti problemi, relazioni personali, e lo stesso. È un negozio sensitivo. Però, chi miro a parlare? Eh... Va bene, andiamo a prendere un po' di soldi. Grazie mille d' Laboratory! E io metto tutti! That's realy! Oh carica Ok Allora caronte Mi ricarico un po' la vita Prendo il potenziamento No no Va bene così Adesso abbiamo lo scontro Con Teseo e Asterio E da l'arifonanza 000 O Oh This I wouldnt say I stole it So much As naturally Wooned the fates And to bestowing it Upon me You could say I'm kind of Testing it out Ah Well then I pity Whosoever shall Lay hands Upon that cursed thing Once you are finished With this Testing of yours I think that We can make it Rather quick Nocio E' nocio Ok Ah mi ha preso ma Ha sbagliato Versailles Ok Aspetta Fida le spalle Facciamo un dano della madonna Ok Ok Probabilmente E' L'arma veramente con più danno Poi potenziata Col dono di Artemide Poi vengono penso I guanti E poi per danno a ripetizione C'è l'arco Se ho però quel potenziamento Ok Potenziamento giusto Però ovviamente Ok 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 Allora Con 320 Ma io cos'è che avevo Preso Dov'è Ah questo No Non questo Dov'è Non ce l'ho più Dov'è Ah questo No Ah è questo qua Ok No ma Lasciamolo Lasciamolo Questo Aspetta un attimo Ah qua c'è Ma Saito E' un po' che è qui sto simbolo Sta Sta luce Boh Vabbè Andiamo da Hermes Dai vediamo Ah no Forse devo scegliere un incontro Difficile Vabbè Ok 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 Fa che mi ha preso Forca Stissati Riguarda Ok Maedizione Dov'è 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 Qua Ok Aia No Non capisco niente Aiuto Eh mi sa che Forza vacca Mamma mia Sì Eh Facciamo offendente rapido Quello che speravo Riccato che non ho più molta vita Vabbè Guarda prendo E Prendo No Non prendo niente Che se becco il pozzo Va vado qua Ok Porca vacca Mi ha preso Prima di morire Ma guarda Che Lui mi ha preso E mo moriamo Eh Vabbè Vabbè Cazzo Se non morivo Avevo ancora tre Vabbè Abbiamo un sacco di vita Non penso di aver mai avuto così tanta vita Cioè 250 Vabbè Comunque Prendiamo Prendo il potenziamento da 300 Prendo questo E anche quello da 100 Facciamo scossa di ritorno Ok Così anche lo scatto è forte Bene. Non è che è diversa. Non è ancora nato. No. 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 Ok. Ancora una ghianda. No. 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 Ok. Siamo già così. Ah. Ehi. Ok. 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 C'era un dato che non l'ho vista. E' andata benissimo direi. E' andata benissimo direi. Sì ma di qualche secondo. Probabilmente. Eh. Va bene va bene. Ehm. Ok. Ok. The clever minded prince again eluded to certain death up to a certain point but then predictably made one of his fatal mistakes again. Ok. E' già un po' di volte che gli diamo il fatto suo eh. Cioè. Oh. Hi. Um. You're welcome. Mmm. Bye. I know that it's a painful subject sir but can you tell me. What exactly happened in the war that claimed Patroclus and yourself. He brought it up. Said you refused to fight. Until he died. I did refuse to fight until he died. But at that point. What. Look lad. If we're going to discuss these matters. Best we do so in the lounge. Not here. The fool of a king I served. I'd never take up arms for him. But Patroclus. He always had a different way of looking at things. As I refused to fight. He rose to the occasion. Took up my armor. Led my brothers into battle. In my guise. Fought nobly. But then he. Well. And after you found out. You sought vengeance for him. Took vengeance. That I did. They got me finally of course. But not before I broke them first. The war soon ended after that. It is an awful contradiction that to quickly end war. One need only extinguish many lives at once. I had not realized it at the time. Did you. Allow yourself to die. So that you could see Patroclus again here. I don't know. Maybe. I only know that I was filled with rage. Rage that subsided. Soon after I arrived here. I felt. Empty. I never saw Patroclus again. But I learned my brothers honored my last request. As my ashes were laid to rest with his. Anyway. I appreciate the drink. Suppose I'd best be getting back to standing quietly about. Though that war lad. Don't ask me about it again. All right? Of course. Tanto mi sa che non finisce qua. Eh. Oh. Siamo arrivati a mille di tenebre. Mancano mille. Va bene. Aspettiamo. Aspettiamo. Adesso vengo da. Sì. Adesso vengo da te. Guarda ti do un altro net. Ah non posso. Ah. Non posso. Non posso. Cosa va con Caron? Se puoi dire Than. Non ha mai stato particolarmente parlato. Ma sembra veramente sapere le interazioni di questo posto. Corrispondo con Caron tutto il tempo. Ma anche io non lo so. Il punto di vista della sua responsabilità. È un contrattore indipendente. È stato qui sempre. Il tuo padre gli ha dato abbastanza di spazio per lavorare. Un libero professionista. Tutto quello che gli abbiamo dato noi. E sta ricco guarda. Però sta qua. Non va via. Offri. Non mi piace bene, ragazzi. общo. cleolo. Congresso М Esther. Sono rotto con le due. Aологinia. Le optimumухpero. Ha futuro più aggeleni. Sono autokemi. Ci sei sempre. È di nuovo. Il tablato della out Cultura è lunga. Plessanno? Grazie a te, ragazzi. Non mi sento molto freddo al momento Ho chiesto di nuovo per la costruzione di un dialo di sun ma ogni volta mi dicono no, potete crederlo? Ritratto, ok Vabbè Lui è tornato Ah, gli offriamo l'Ambrosia, sì sì Come va, come va? Come va, come va? Come va, come va? È stato più di bene, mio amore Perché? È stato positivamente inspirato Ma ho avuto come ho detto a questa casa Ma l'amore è qui Ma le responsabilità sono qui Hai sembra di spondentare, ragazzi Deve pensi che tu sia là ora Ma sei che hai dovuto tornare all'inizio Oh, per esempio, Zaccheus Mi ha fatto che aver un po' di distanza tra le mie responsabilità e la mia vita domestica Perché? Non è così male Inoltre, Caron mi fa un po' di distanza E' abbastanza semplice per me, vero? Grazie di sentarlo Io solo posso immaginare Vedere, eh Ci manca uno Un po' anche due al massimo Il head chef sempre vuole fischio Ho spero di poter vedere una snaga la prossima volta Ciao per ora Vabbè Eh, qua Ma... Allora Eh... Direi proprio di no Potrei Ho quattro ambrosie Che per carità bastano Almeno per il momento Però potrei davvero Guarda, facciamo Due, quattro, sei Ok Ecco, sei diamanti Tre ambrosie Perfetto Facciamo così E... Vabbè, tanto poi al limite I diamanti li recuperiamo Se serve Sì Eh, anzi adesso potrei Ecco, così ne ho tre E... Va bene così Per il momento Nix non c'è Persephone non c'è Persephone non c'è Qui ho... Ah sì, ho... Ah, me ne andate due adesso Di Ambrosie Perfetto E adesso la potenziamo Ok Ok Va bene Va bene Siamo a quota 22.000 Amici uccisi E tentativi di fuga 59 Cacca Qui niente Qua rimetto No Meglio sì, però aspetta Rimetto Questo qua di Artemide E potenzio Ok Aura riduzione e danni Sì Ok Perfetto Usi ancora più forte Eh sì sì Adesso mi sa che uso Excalibur